Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Un video diverso dal solito, ma che secondo me mi può dare tanti spunti di riflessione e di analisi in merito a degli argomenti ginecologici e ostetrici. Perché? Perché come avete visto nell'ultimo periodo sto commentando tantissimo, l'ho sempre fatto in realtà negli anni, e poi commenta le serie mediche, ma commentando sempre serie tv, dove purtroppo si tende un po' a inventare, a raccontare delle cose un po' poco veritere. In questo caso, per fortuna si riuscite a trovare su YouTube, a tema ginecologico, una ragazza, Chiara Paradisi, che racconta la sua gravidanza. E quindi dà dei racconti, delle esperienze, delle cose reali, di una persona reale. E questo mi permette di raccontarvi, di dirvi realmente le cose come avvengono. Quindi diciamo, raccontare qualcosa di reale, non finzione, una serie tv. Quindi secondo me un Peppe commenta in questo caso un video YouTube di Chiara Paradisi, secondo me può essere molto molto interessante. Prima di iniziare questo video, quindi ragazzi, come sempre, invito a seguirmi sul mio canale YouTube, iscrivendovi al canale, attivando la campanella. Vi ricordo che il 60% di voi non è ancora iscritto al canale, quindi andatelo a fare, perché è gratuito e non vi costa assolutamente nulla. Lascerò un bel like per un prossimo Peppe commenta, in questo caso anche il video di Chiara Paradisi, arriverà a Doc nelle tue mani, che vi è piaciuto tanto. Arriveranno tanti video e un commento qua sotto su una serie tv che vorreste che io commenta. Ringrazio Chiara per avermi dato l'autorizzazione, vi lascio il link del video in questione nella descrizione se volete andarla a vedere in modo integrale. Subito via con la sigla! Eccoci qua su YouTube, andiamo subito a cercare il video di Chiara. Andiamo a vedere questo video. Prima visita al ginecologo, 2 o 1? Perdonatemi le condizioni, ma adesso ci arriveremo qui nel 3-7, ma intanto vi... Io sono la Chiara del figlio, in questo momento. Ah, ok. Io è bello! Vabbè. Il ginecologo è che adesso vi dirò... Eccolo qua. Prendate, vi lascio un po' ieri qui. Che bella quella vitellina, ce l'ha pure mio padre. Sta cavolo di velocità! Ah, si vede bene la foto? Allora, qui si vede subito, mi metto in pausa, si vede l'utero, vedete qua? Qui c'è il sacco vitellino e si vede la bozza embrionaria. Lo vedete quella parte bianca in alto? E la bozza embrionaria, che bello! Ci siamo un po' tutti. Ci siamo un po' tutti. E lui, guardalo, guardalo, la faccia della cotetta. E qui ci sarà... Quanti vanno dal ginecologo? Ebbene, sì, per le più attente avranno già capito. È uno! Eh sì, sì, si capisce. Cipollino o una cipollina. E esce più facile. È ancora impossibile sapere il sesso. È uno, è uno piccolino, bellissimo. È uno. Metto un attimo in pausa, Chiara, per fare una precisazione, diciamo, dell'importanza della prima ecografia, che molte volte le persone non le fanno. Fanno le beta, vedono che sono in gravidanza e non fanno una visita di controllo o un'ecografia di controllo. Dopo mille di beta è fondamentale andare a fare un'ecografia. Perché, ragazzi? Le beta ti dicono che tu sei in gravidanza. In realtà ci sono anche le patologie del trofoblasto che danno un aumento delle beta, però, per sintetizzare, diciamo, sei in gravidanza. Però non ti dici dove è localizzata la gravidanza. È l'extra, la gravidanza extraterina. Quindi con una localizzazione anomala della gravidanza potrebbe dare problemi. E quindi è importante fare un'ecografia, dopo mille di beta, perché prima non si vede nulla, per localizzare in modo corretto la gravidanza all'interno dell'utero. Quindi essere tranquilli che non ci sia una gravidanza extraterina. È molto, molto importante per evitare che si arrivi in condizioni un po' più avanzate, dove c'è il rischio di rottura della tuba o di altre complicanze. E quindi ricorrere e correre in ospedale. E adesso parliamo un po'. Ti dottor mi ha dato il mio ginecologo questa meravigliosa cartella. Piccola cosa, questo qua lo danno gli informatori ai ginecologi, ma sono bellissime. Ed è una cosa molto importante la cartella clinica della gravidanza. Vedo che molti colleghi o anche molte mamme tendono ad ammucchiare poi senso una cosa. Invece credo che sia compito del ginecologo insegnare, ma comunque anche la madre, ad avere quella cartellina là in modo ordinato. Vedete ci sono dei fascicoletti. Mettere tutti in ordine cronologico, le ecografie, i vari esami ematici, tutto ciò che viene fatto in gravidanza aiuterà. Prima di tutto, quando voi andrete a fare un ricovero in ospedale, ad avere una visione più chiara della vostra condizione clinica. Quindi a trovare rapidamente gli esami e non perdere tutti gli esami. E in secondo luogo ad avere una visione più completa e rapida anche a voi. Mamma, quando vi chiedono, ma la morfologica l'hai fatta? Sì, eccola qua, subito pronta. È veramente una banalità, ma che aiuta tanto. È un ginecologo diverso da quello che dice qui. Ovviamente altre volte, cioè l'altra volta, come sapete, io ho avuto un percorso un po' bruttino con Lara, ecco. Insomma, per quanto riguarda ginecologi, eccetera, eccetera. Poi andremo nel dettaglio di questa questione. Io ho avuto modo di chiacchierare con Chiara qualche giorno fa in merito a questo video. Lei mi ha detto che ha avuto un po' di problemi col precedente ginecologo. Era una questione che lei era molto giovane, aveva 16 anni. Non vorrei dire una festività a Chiara, perdonami. Parleremo poi magari in un altro video di questa cosa qua, perché se ne esci fuori in questo video vorrei approfondirla. Perché è una cosa che mi ha toccato molto molto nel profondo sulla gestione, che secondo me è stata veramente brutta. Però concentriamoci su questo video. Approfondiremo magari in un'altra sede. Vediamo un attimo. In quattro mesi, se non erano anche di più, cinque mesi forse, la mia ginecologa mi abbandonò perché mi era sempre, sei troppo giovane, non voglio... Ecco qua. Faccio un piccolo inciso che voglio ricollegare a questa questione qua. Dice che è troppo giovane per seguire la gravidanza. In realtà la gravidanza a 16 anni, 17 anni, non è che si evolve in modo molto particolare. L'unica piccola complicanza si potrebbe avere a livello del parto. Ma lei ha un bacino molto grande, quindi problemi al parto non ne ha. Almeno io adesso, poi a 16 anni, non so com'era. Perché ovviamente la gravidanza si evolve in modo normale, cioè non si discosta da una normale gravidanza a 16 anni. Non è che è una controindicazione. Pensate che in passato ovviamente partorivano molto molto più giovani. Però ovviamente erano associati a molto più complicanze. L'unica problematica è che può essere che avendo un bacino molto molto piccolo, perché la ragazza ancora non è completamente formata, ci possono essere delle piccole complicanze al parto. Ma vi posso dire che di recente abbiamo avuto una ragazza di 16 anni che ha partorito, ha partorito in modo del tutto naturale, senza alcun problema. Quindi voglio dire, non ci sono grossi problematiche. Quindi dalla parte del collega non capisco la problematica nel seguire una ragazza così giovane. Sinceramente, anzi, tu devi essere ancora più volto ad aiutare una ragazza giovane piuttosto che abbandonarla. La ragazza di Lara è stata una ragazza di una quarantenne, avrebbe uno nello stesso modo per dire. Appunto. Però questa volta invece mi sono affidata a questo nuovo che è una peccata all'aria fresca. Io ho notato una piccola cosa, una piccoletta che però vuol dire tanto per me. Ero sul lettino stesa, mi dovevo rialzare su, mi ha dato la mano per farmi tirare soffetto. Beh, è una sciocchezza, però effettivamente è una cosa che pure io faccio spesso. Non intanto dare la mano, ma il discorso che lei si sta collegando è l'empatia, l'esserti vicino, l'aiutarti, e tenderti la mano metaforicamente a quello di aiutarti. Ci sono, come ben sapete, nel mondo medico due tipi di figure mediche. Il medico più empatico, il medico che ha questo rapporto quasi amichevole con la paziente, è il medico tecnico. Cioè quello che ti dice, guarda questa è la patologia, così, 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 così. C'è un giusto e un sbagliato, perché c'è chi si trova meglio con il medico tecnico che ti racconta per file e segno quello che fa, e c'è chi si trova meglio con il medico più empatico, quello che ti prende più a cuore, quello che ti prende un po' in amicizia. Non c'è un giusto e un sbagliato, c'è una cosa diversa. Evidentemente Chiara si trova più in questo modo. Io personalmente mi trovo più con l'idea di Chiara, cioè sono una persona più empatica, mi piace avere un bel rapporto con le mie pazienti, essere più un amico che solo una figura medica che ti vede. Però è ovvio che ci sono differenze e differenze, ecco. È pazzesco, poi mi parlava con una tranquillità assoluta. Cioè mi ricordo che quella prima del rinanzo era una corsa, dovevo fare 300.000 analisi, 300.000... Ma questa cosa è sempre questa pubblicità. Chiara, perché tutta questa pubblicità? Perché tutti quanti mi dicevano, non lo so, boh, e poi di là... Non so bene, Chiara, bisogna capire. Cerca di specificare, non sto capendo. Le analisi hanno ovviamente un'indicazione, quindi c'era qualcosa che non andava o andava tutto bene, però io sono giovane, non capisco. L'altro po' mi facevano a me domande, e poi io questo io ormai dico, c'è una cosa che dicevano le parole con calma, stai tranquilla... Cioè proprio Rana, mi ammissi una tranquilla... Questo lo dico sempre, stai tranquilla. Allora, parliamo delle cose principali, adesso... Ecco, dai, dai, tranquilla. Io veramente mi piace commentare questa serie, questo video, perché vedo proprio la sua emozione, ed è quello che a me piace tantissimo della ginecologia, ma soprattutto dell'ostetricia. Questa felicità che si legge nei suoi occhi, ve la vedete, dice, come seguirò la gravidanza nei prossimi mesi, veramente è una cosa che ancora a me dà felicità, cioè, veramente, seguire le gravidanze è bello per questo, quando gli dai queste notizie. Non so nemmeno io come descrivo, però vedete, l'è felice, è raggiante. E tutto mi ha dato da fare degli esami, ho fatto una volta gli esami e due volte la beta-HCG, che era tutto benissimo, e... Ok, per farvi capire rapidamente, ha fatto il dosaggio della beta-HCG, ve l'ho già accennato prima, è importantissimo farlo per avere un quadro dei valori, come sta crescendo la gravidanza. Gli esami, gli esami ematici della prima gravidanza, sono fondamentali, molte volte non li fate, non ve li dicono di fare, fateli. Dovete fare tutti i markers, patologie, quindi epatite, HIV, Epstein-Barr, citomegalovirus, via discorrendo. L'emogruppo, ragazzi, arrivano pazienti senza emogruppo, si deve sapere se è il gruppo sanguigno, ragazzi, può sembrare una banalità, ma per noi medici è molto, molto importante, perché se avete un gruppo negativo, dobbiamo, il figlio nasce con gruppo positivo, bisogna fare le monoglobuline per prevenire quelle che sono delle complicanze nelle future gravidanze, quindi, insomma, fate tutto, fate tutto, dai, ragazzi, fate la gravidanza, sappiamo che costa, ma si devono fare le cose fatte bene. Mi ha dato per fare gli esami che prima che ci rivediamo la persona... Giusto, che ovviamente se c'è qualcosa di negativo dove non sei immune, mettiamo caso, se non sei immune al citomegalovirus, devi continuare a controllare per la gravidanza per vedere che non ti immunizzi. In alcuni ospedali si fa un pebacca, cioè a prescindere dal fatto che ero giovane, l'hanno fatto, però a maggior ragione che ero giovane, calcolate che per questo momento ho partorito, io avevo davanti a me una cosa come non so quanti studenti, una decina di studenti, davanti a me, che io mentre partorivo urlavo, perché è un parto naturale, calcolate che questi prendevano appunti, si avvicinavano, mi guardavano l'asso certo. Chiara, però c'è da dire una cosa, normale, non è perché sei tu, ma in un ospedale universitario, voi sapete che entrate ci sono gli studenti, ci sono gli studenti di medicina, studenti infermieristica, studenti di ostetricia, ovviamente, ci sono i medici specializzanti, insomma non è questione di prendere appunti, non è perché era Chiara Paradisi o una ragazza di 16 anni, ma semplicemente perché era un parto e ovviamente è così. Lo so, capita, può non essere per la madre la cosa migliore del mondo, ci vuole tatto in queste cose, però purtroppo negli ospedali, purtroppo negli ospedali universitari è così, e tutti dobbiamo passare dalla gavetta, cioè da un percorso, tutti dobbiamo partire dalle basi. Vabbè, è un'esperienza diversa, raccomando. E meno male che la prendi bene, meno male. Abbiamo dato da fare, questo che è una diagnosi prenatale, lo screening per la sindrome di Down, che si fa sempre. Giusto. Non mi ricordo di averla fatta nella prima diagnosi, ma perché... Spieghiamo, lei fa lo screening per la sindrome di Down, non tutti lo fanno, ma adesso si sta facendo molto di più, lei, non so, pensa che ha 23-24 anni, ha avuto la prima figlia a 16 anni, quindi parliamo di 6-7 anni fa, si faceva pure prima, però non tutti lo fanno, allora vi spiego, per la sindrome di Down, ci sono dei test di screening, che sostanzialmente sono due. Da una parte abbiamo la trasdolucenza nucale, che è una semplice ecografia che si fa intorno all'undicesima settimana di gravidanza, associata a quello che viene chiamato due test, dove si vanno a fare un perlievo di sangue intorno alla decima settimana, della Free Beta HCG e delle PAP, che combinati con il valore dnt di questa trasdolucenza nucale che si vede con l'ecografia, tramite dei sistemi matematici, ti danno un valore probabilistico, non di certezza, di avere una delle tre trisomie, 13, 18, 21, quindi l'insieme di questi valori, però non ti dicono di certezza, tant'è vero che i valori, i risultati che ti possono uscire, sono di tre tipi, alto rischio, medio rischio e basso rischio. Se è basso rischio non si fa nulla, se è a medio rischio ti possono consigliare di fare il Fetal DNA, che è un esame, ve lo spiegherò fra poco, se invece è ad alto rischio si fa l'amniocentesi, l'amniocentesi non si fa perché ha delle complicanze, è l'unico esame che ti dà veramente una certezza insieme al Fetal DNA, diciamo è molto costoso, può avere delle complicanze, e allora si dice di fare così, cioè si screenano le persone, si valuta chi è a basso o alto o medio rischio, e di conseguenza si indirizza verso un interdiagnostico-terapeutico differente in base appunto al rischio. La questione è Fetal DNA, in alcuni casi non viene proposta sul senso nucale o NT, ma si fa direttamente questo NIP test, che è appunto il Fetal DNA, è un prelievo di sangue che tramite il sangue materno va ad estrapolare delle percentuali di sangue fetale, che circolano normalmente, e oltre a valutarti, non ti dà un rischio, ma ti dà una certezza della presenza del 13-18-21, quindi con un'attendibilità del 99%, mentre la traslocenza locale ha una percentuale combinata intorno al 93-94%, quindi meno attendibile, ma comunque valori alti, ti permette anche di andare a valutare, a secondo dei pacchetti che fai, perché è un esame molto molto costoso, ti permette anche di andare a screenare tante altre patologie, quindi patologie cromosomiali, patologie alterazioni dei cromosomi, non le trisomie basse, ma anche patologie ereditarie, quindi insomma è un esame molto più completo, che la traslocenza locale non può valutare. Sono scuole di pensiero, sono scelte, lei probabilmente stava parlando della traslocenza locale. Di solito tutti gli esami extra di questo tipo si fanno dopo i 25 anni, questo qua del... Nì, nel senso che si fanno a tutti, non è che non si fanno a tutti, si fanno, è ovvio che dopo i 25 anni i rischi tendono ad aumentare, ma in realtà 25 anni è ancora nella norma, il rischio per le trisomie iniziano dopo i 35-40 anni di età. Dubbio, comunque lo fai, ma non perché ci sia chissà che cosa, è semplicemente si fa e basta. E le screening che si fanno durante la gravidanza. Invece per quanto riguarda l'aminocentesi e l'esame non invasivo basato sul DNA... E quello che dicevo, il feto è il DNA? Mi spiegato che sono tutte cose, comunque c'è il rischio aumenta da 25 anni in su, gli avendo nei 23... No, in sostanza, fai la traslocenza locale, ti esce a basso rischio, non fai nulla, alto rischio vai a approfondire. Tantissime persone hanno detto ah, ma tu passi per le trisomie in più di qua di là, cioè veramente nel commento ho letto una cattiveria non indifferente. E abbiamo ovviamente parlato di questa cosa e lui te l'ha detto, a parte che si sarà tranquillo, ma perché tutti i dolori sono tranquilli, che si stiamo... Sicuramente per la trisomia 21 incide, ma non tantissimo, il sovrappeso. Il sovrappeso incide sul rischio di diabete gestazionale, sul rischio di preclansia, quindi di ipertensione gravidica, di collestasi gravidica, incide sulla gravidanza, purtroppo il sovrappeso incide. Ma incide anche da un altro punto di vista, Chiara te lo dico a te in questo momento, ma lo dico a un capo tutte. Peso in gravidanza, l'alimentazione in gravidanza è fondamentale, perché ci sono dei processi chiamati imprinting genetico, che vanno a determinare quello che sarà la vita adulta del bambino. Si è visto in numerosi studi che le pazienti in sovrappeso o che hanno un'alimentazione scorretta durante la gravidanza, tenderanno i bambini in età adolescenziale adulta ad essere portati ad avere sovrappeso, sia per una questione metabolica che ormonale, e via discorrendo. Quindi, insomma, è sicuramente una cosa da tenere sotto controllo. Chiara si vede che è una ragazza intelligente e quindi sa, ovvio, la situazione di partenza è quella, non è che può modificarla, poteva modificarla prima, però ormai è questa, ecco. La cosa che più lo preme non è tanto cosa, quanto mangio, dove, quando e perché. Il punto adesso per lui focale, fondamentale, sono le nausee, quindi come fanno a stare le nausee e infatti mi ha fatto una lista raga di roba da contrarie, cioè mi ha dato 300.000 opzioni. Se le cose peggiorano troppo riguardanti le nausee, ecco, una cosa che a me nella prima gravidanza non aveva, proprio nessuno mi aveva dato, mi avevano lasciato dopo a morire tranquillamente e nessuno mi aveva dato niente. Purtroppo c'è da dire che sull'iperemese gravidi o comunque sulla nausea in gravidanza c'è chi ce l'ha, c'è chi non ce l'ha, ma è una condizione molto molto particolare che è anche difficile dal medico e per il medico controllare. C'è chi con la sola alimentazione riesce a controllarla, chi con qualche integratore, chi con i farmaci non riesce comunque a controllarla. Purtroppo non è questione di chiara e che veramente certe volte è difficile da trattare. E sempre qui torniamo al discorso che l'alimentazione gioca un ruolo fondamentale perché in alcuni casi semplicemente modificando l'alimentazione si riesce a controllare in modo importante l'iperemese gravidica che è una condizione dovuta al progesterone, cioè è una condizione parafisiologica della gravidanza. E non vi dico il nome perché sono dei medicinali che comunque vanno sotto... È il Nuperal, lo dico io che sono medico, è il Nuperal. Il nome ma manco lo riuscirei a leggere. Nuperal. Chiara dai, Nuperal! Vabbè, insomma, ci sono delle pratiche che però sono proprio delle pratiche da prendere in farmacia medicinale, insomma, che tipo si prendono... Una alla mattina, una pranzo e due alla sera. E fanno passare completamente la Nuperal, ragazzi. A mali estremi estremi, ma gli stai proprio lui e la... E ma non hai detto nemmeno che funzionano certe volte? ...agli oli, da mettere per le smagliature, cioè lui ti segui anche... Purtroppo è una complicanza nel suo caso, soprattutto. ...e ne ha parlato lui, non è che glielo ho detto io, un'assenta, come possiamo parlare, no no, me l'ha detto lui. Bello, mi piace quel rapporto che sta creando col suo ginecologo, è una cosa importante. Impeccabile, raga, perfetto, impeccabile, non so che... Cioè, veramente, è stata una delle migliori visite che io abbia mai fatto in vita mia, dopo della sua figura medica, io ho un po' paura. Eh dai, chiara, no? E vi assicuro che non è poco, perché se già hai un dottore che ti segue e che ti fa stare tranquilla, vi assicuro che già stai a metà dell'opera. Vero, lo stress in gravidanza incide molto sulla gravidanza. Allora, per quanto riguarda invece il piccolino o la piccolina, lo sappiamo, vediamo, vediamo. Semplicemente è un pochino più piccolo rispetto a quello che tecnicamente è il mio conteggio. Come a dire, sicuramente non va tutto bene. Perché non dovrebbe andare tutto bene? No, non è vero, questo non è vero. Infatti, appunto, mi stavo dicendo, cioè, non è un problema perché lui non ha detto che è un problema, però è un pochino più piccolo. È piccola. Vabbè, allora, funziona così, ve lo spiego rapidamente. Tu calcoli l'età gestazionale della gravidanza dall'ultima mestruazione se è una gravidanza spontanea, se è PMA è un'altra storia. Dall'ultima mestruazione ha fatto un calcolo, dieci settimane, cinque settimane, quello che è. Poi, quando tu vai a fare la prima ecografia, vai a misurare il CRL testa-culetto. In questo caso non si può fare perché è ancora più piccolino, quindi diciamo, è un CRL ma un po' non è un po' il proprio CRL ma comunque vai a misurare. L'ecografo ti dà un valore che è dato da una stima, da una serie di parametri statistici e ti dice quanto misura. Cioè, CRL tot misura corrisponde a sei settimane e tu invece hai calcolato sette. Quindi, sostanzialmente, in quel caso si può decidere di ridatare la gravidanza. Ovvero, dire che invece che la mestruazione essere venuta il primo di luglio ti è venuta il sette di luglio, sostanzialmente. Diciamo che la ridatazione viene fatta solo ed esclusivamente ad almeno una settimana di differenza. Cioè, se c'è una differenza di 5-4 giorni non viene fatto perché c'è un po' la differenza dell'operatore, un po' i vari fattori non viene fatto. Ecco, non cambia più di tanto in termini di la gravidanza. Ovviamente dovrebbe essere con i miei calcoli però perché il problema qual è? Che io non avevo un ciclo regolare. Ecco, quello è un problema. Io ho detto quale doveva essere l'ultima data dell'ultimo ciclo. Però se non hai un ciclo regolare l'ovulazione non è regolare e di conseguenza perché tu hai il ciclo ma poi l'ovulazione che ti porta alla gravidanza avviene 14-15 giorni dopo e la fecondazione ancora di più. Quindi se invece che aver ovulato a 14 giorni hai ovulato a 21 è normale che c'è una ridatazione da fare. Più o meno una settimana. Esatto. E la beta HCG va bene, i valori... Eh sì, ma quella è una cosa naturalissima, non succede nulla. E bene, più corretto, questa cosa che è un pochino più piccolino come se appunto ci fosse una settimana indietro sicuramente è molto probabilmente dovuta al fatto che non ha il ciclo regolare. potrebbe essere semplicemente questo fattore se ho capito bene. Eh sì, quindi in realtà non è più piccolo e nella norma semplicemente che noi avevamo conteggiato come se fosse già a una settimana in più quella che in realtà è finare con l'acido folico. Quello importante, prevenire i difetti del tubo neurale. Quindi, la prossima visita ce l'abbiamo in... Un mese. Quindi lo rivedremo per la seconda volta che mi vedo l'ora e stavolta vedremo anche molto, molto di più. Eh sì, e non vedo l'ora raga perché ovviamente è una felissima vederlo è un'emozione non indifferente. Ecco. Guardate quanto è felice raga, mi fa piacerissimo, guardate quanto è felice. Però Chiara, smettila con questa pubblicità! Grazie a te. Mi è piaciuto tantissimo questa puntata, l'avete visto. Aspetta tutti, Peppe commenta le serie mediche dovevi sempre qualcosa da dire è una gravidanza reale, è la realtà. E sono queste le emozioni che una persona vive, una persona sente durante la sua gravidanza. Quindi mi fa piacere aver commentato questa cosa, avervi anche spiegato magari qualcosa che lei non era riuscita a spiegarvi per una questione ovviamente perché ovviamente non è un ginecologo, ha detto cose giuste e sono curioso di guardarmi le altre puntate e di guardarle insieme a voi. Quindi fatemi sapere con un commento qua sotto se vi è piaciuto questo Peppe commenta le serie mediche anzi in realtà non è una serie medica ma vabbè. Fatemi sapere se volete vedere altri episodi come questo fatemi sapere ringrazio Chiara per avermi dato la possibilità di commentarlo anche se pubblico su YouTube ma sono comunque fatti privati ed è giusto che vengono raccontati con l'autorizzazione. Grazie, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto andate a vedere il video originale e gli altri video se volete di Chiara lascio il link in descrizione. Suizietemi su tutti i social mi raccomando Instagram, TikTok mi fa molto piacere e noi ci vediamo